Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Novità in arrivo per Lorella Cuccarini che sembra avere solo l'imbarazzo della scelta. Infatti, potrebbe lasciare per sempre amici e passare in Rai. Ecco cosa sta succedendo. Quest'anno i palinsesti delle reti televisive verranno completamente rivoluzionati. Infatti, potremmo non rivedere più al loro posto alcuni dei volti che ci hanno accompagnato per anni. Già Fabio Fazio e Lucia Annunciata hanno salutato per sempre la Rai. Inoltre, si vocifera un addio a Mediaset da parte di Barbara D'Urso che potrebbe iniziare un programma su Netflix. Anche Lorella Cuccarini potrebbe decidere di non prendere parte alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, salutando per sempre il suo ruolo di professoressa. Amici 2023 dovrebbe iniziare il 17 settembre e non è ancora chiaro chi farà parte del team di questa stagione. Sicuramente. Rivedremo come sempre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Più incerte si fanno le presenze di Todaro e Cuccarini. La ballerina e cantante potrebbe passare in Rai. Vediamo cosa sta succedendo. L'orella Cuccarini abbandona amici. L'orella Cuccarini potrebbe non essere presente nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante è ormai professoressa nella scuola da tre edizioni. Mentre per Lorella Cuccarini non possiamo dire altrettanto. La showgirl è nel talent di Maria De Filippi da tre edizioni. La cantante e ballerina ha iniziato prima come insegnante di ballo per poi passare alla cattedra di canto. Una delle sue allieve si è classificata al secondo posto, con la cantante Angelina. Non è Maria De Filippi che vuole sostituirla ma Lorella Cuccarini sta ricevendo una serie di offerte dalla Rai che potrebbe decidere di non rifiutare. La rivelazione fatta da Amedeo Venza. Amedeo Venza ha scritto in alcune storie su IG. In queste ore si sta decidendo il futuro di Lorella Cuccarini diviso tra Rai e Mediaset. L'insegnante di Amici è contesa anche in Rai con offerte allettanti. Riusciranno a strapparla dall'ormai collaudato ruolo d'insegnante nella scuola più amata della TV. Non si conosce quale programma sia stato offerto all'orella Cuccarini dalla Rai. Tuttavia, la proposta potrebbe essere particolarmente allettante per lei. Una parte del pubblico del talent di Canale 5, tuttavia, soffre al solo pensiero di non vedere più la ballerina come professoressa di ballo. A dire addio potrebbe essere però anche Raimondo Todaro. Non resta che aspettare di vedere quale sarà il cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo.